Ciao a tutti, io sono Aurora e tu sei? E oggi siamo a Sperlonga. Insieme a noi ci sono le cuginette Gaia, Greta e Zaira. Questo è il nostro primo giorno al mare. Adesso però, prima di fare il bagno, mangeremo perché sono le 14 e qui abbiamo tutti fame, vero Auri? Avete fame ragazze? Sì, non potrò di mangiare. Allora mangiamo. Dai che poi facciamo un bel tuffo a mare, il nostro primo tuffo a mare. Ecco qui ragazzi, il mare di Sperlonga. Guardate che bello. Tra un po' andremo a fare un bel tuffo. E' la mozzarella. Ludo, sei tutta zozza, pulisciti. Viene il tuo agliolo, Ludo. Pulisciti. Che state mangiando? Il panino per il prosciutto crudo. Io ho già finito. Io ho aggiunto anche la mozzarella. Hai finito ciò, Ludo. Io ho riso. E cosa hai mangiato? Il panino. Gaia, tu l'hai mangiato? Guardate ragazzi. Zaira, tu? Ah, ma già sei in costume, tu Zaira. Già sei in modalità mare? Sì, sì. Ah, Greta e Zaira sono già in modalità mare. Che stai mangiando tu? Una mozzarella. Aurora mette la cavigliera sempre il primo giorno di mare. È vero? Stavo vorremmo che fame. Avevi fame, Lulù? Ma tu sei una mozzarella. Ti ho portato tutto. Ti sei sborgato anche il faccio, Ludo. Fammi vedere, Ludo. Auri? Sì? Siete pronte? Ragazzi, io e Gaia stiamo mettendo la crema perché se no ci bruciamo e ti mettiamo dei peperoni. Eh sì, vi ustionate al sole senza protezione. Esatto. È un po' difficile anche mettere la crema al sole. Su, su, su che dobbiamo inaugurare la stagione con il primo bagno. Sì. Ludo, sei pronta per tuffarti? Sei con papi? Sei pronta per fare il primo bagno a mare? Su, su, su. Oh, Dio. Io ragazzi, allora ragazzi, io però sono molto indecisa di come tuffarmi. Ecco. Allora ragazzi, stavo dicendo, io sono molto indecisa di come tuffarmi. Non so se tuffarmi a bomba oppure andare nell'acqua piano piano e poi mettermi. Non ti preoccupare che ci penso io. Bravissima. Ti preoccupare. Bene. Sì, è un legger vento. Avete visto? Ragazzi, diciamo che il nostro primo bagno a mare non è dei migliori con questo vento. Esatto. Dovevamo andare in barca ma non ci siamo potuti andare con questo vento perché il mare è agitato. Però forse ci andiamo domani. Però siamo venuti a mare, dai. Non ci possiamo lamentare. Perché ormai abbiamo preparato un sacco di borsi, ci siamo messi anche il costume, quindi ne abbiamo portato. E sì, siamo venuti qui a Sperlonga. Allora, mi sembra una mumbia con questa crema. Mamma, è la mia schiena per il viso. Ho detto la schiena. Vai Gaia, aiutala. ragazzi scriveteci nei commenti se avete fatto il primo bagno a mare questo è il nostro e non potevamo che condividerlo con voi vero Auri? adesso andiamo a mare ragazze qui c'è la truppa al completo non è vero è caldissimo Ludo ok ragazze 3 2 1 via primo bagno della stagione Ludo vediamo se sai nuotare nuota sbatti i piedini muovi le manine sbatti i piedini c'è una sirenetta qui a mare non c'è una sirenetta? ma fammi vedere i tuoi braccioli aspettate ecco Lulù Lulù ciao Ludo ciao Lulina dove sono belli questi piedini nell'acqua aurora sei uscita dall'acqua si ragazzi dopo avermi fatto un bel bagno nel mare di Sperlong quindi rilassiamoci anzi prendiamo il sole ok 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 Cos'è stato? Ludo! Hai visto qualcuno? No! Vi dovrei vedere cosa? Perché ho sentito qualcuno toccarmi! Vabbè! Sarà stata solo la mia immaginazione, ma dormiamo! Anzi, riposiamoci! Aurora! Aurora! C'è qualcuno che ci sta spiando! Cosa? C'è qualcuno che ci sta spiando! Io ho paura! Anche io ho l'impressione che qualcuno ci sta spiando! Ho un'idea! Ci difendiamo contro il spi! Esatto! Questi ci sono! Ma scusa! Ma cosa sono una bacchetta per picchiare? Non ho capito! Sono dei palloncini! Li riempiamo d'acqua e li buttiamo a lui! Ho capito! Ma sono dei gavettoni! Gli e li possiamo lanciare quando arriva! Sì sì sì, bel piano! E la fontana dove la proviamo? Lì sopra! Lì sopra! Ok ragazzi! Stiamo andando alla fontanella! Vai Gaia! Aspetta io metto le mani! Venite ragazzi! Si stanno riempiendo! Non ci vuole tanto! Allora ragazzi adesso alcuni si stanno riempiendo altri invece ci vorrà un po' di tempo! Gaia mi sa che bisogna staccarli! No no si staccarla la sede! Ragazzi questi mi stanno riempiendo! Allora uno è già riempito! Ragazzi sono... Oddio! Ragazzi per me! Ma ragazzi ma si bucano! Ludo anche tu hai palloncini! Ma perché? Perché dobbiamo lanciarli a quello che ci pia! C'è qualcuno che vi sta spiando? Sì! E adesso andremo nelle giostre! Andiamo vi accompagno io! Ragazzi perché quando ero sdraiata sullo stendino qualcuno mi ha toccato! Voi l'avete visto? Io no! Scrivetelo nei commenti! Io non ho visto nessuno! Io ho visto! L'hai visto tu Zahira! Ma volete che vi accompagno? Sì! Sì! Perché abbiamo paura! Non vi preoccupate ci sono io con voi! L'importante è che voi siete attrezzate con le bombe ad acqua! Eccole guardate così! Così se lo becchiamo gliele lanciamo addosso e scappiamo! Così impara a spiarci! Ok adesso andiamo! Siete tutte d'accordo? Sì! Mamma mia ragazzi questo posto è spaventato! E' qui un po' inquietante! Veramente! Ragazze mi raccomando se lo vedete lanciate a tutta forza! Ragazze l'ho visto! L'ho visto! L'ho visto! Vieni qua! Eccolo chi è! Ah no! Oddio! Lanciate! Lanciate! Questo cattivo chi è? L'abbiamo incastrato! Ragazze! L'abbiamo incastrato! All'arrabbeggio! Tolpisci Ludo! Ludo tolpisci! Cosa vuoi Danne che ci stai spiando? Cosa vuoi? Ragazze lo dobbiamo bloccare! Giaia scappa! Scappate ragazze! Scappate ragazze! Scappa Zahira scappa! Ragazzi qua la questione si fa molto seria Quindi direi proprio di scappare Andiamo Andiamo Correte Ci conviene ad andare via da qui Quella con te non piace Andrà valuto Ragazzi scappiamo tutti via Questa situazione non mi piace Andiamo Non correte ragazzi tanto non c'è Dai ragazzi salite in macchina Caricate tutto Ma sta venendo Sta venendo Madonna ragazzi Per un pelo Quello ci prendeva e ci portava da qualche parte Come ha fatto Samara Quando ha rapito te E' vero Vabbè ragazzi il video finisce qui Ma c'è un amico di Mr. Bu O di Samantha Samantha? O pure di Samara o di Babba Lunga Ok Le do a Basta E se ce l'hanno mandato loro per spiarci? Ok Siamo finiti Vabbè ragazzi Il video finisce qui Speriamo che vi siete divertiti Noi vi salutiamo Iscrivetevi Iscrivetevi E attivate la campanellina E lasciate tantissimi pollicioni In su Fatelo eh Ciao ciao Oddio mio Ok Va bene parti papi parti Fai presto Andiamocene da questo posto Dai dai su 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 Andiamo Ciao ciao